La cellulite è la cellulite, nel dimagrimento e nel modellamento corporeo. Mi chiamo Carla, abito a Portona, ho 53 anni, sono casalinga. Ho arrivato a un buon peso e ho detto basta perché non ti pieghi male, non cammini, hai l'affanno, ti cominci a sentire goffa, vai a comprare i vestiti e non li trovi, classico. Nel corso di questi anni sono stati trattati con successo più di 150.000 casi. I anni di esperienza consentono alle nostre dottoresse di dare un'aspettativa di risultato che si rivela esatta in un'altissima percentuale dei casi e quindi una sicurezza all'investimento in salute. Prima di venire alla DCD, dietologhi, dietologhe, praticamente diete fai da te, pasticche, l'ho studiato di tutte, prendendo di tutto però arrivavi a 15 giorni e finiva lì, finiva, è da capo praticamente. Più di 150.000 casi trattati, perdite di peso fino a 80 kg in un anno. Se anche tu vuoi cambiare vita, vieni alla DCD Studi Estetici. La DCD l'ho conosciuta tramite un'amica. Era un pezzetto che non la rivedevo e ho visto che era dimagrita tantissimo. E allora mi ha detto come aveva fatto, com'è. Dice, guarda, sono andata alla DCD, se vuoi ti ci porto e così è nata tutta questa storia che sono arrivata. Il metodo DCD si avvale di due fasi, la cronoalimentazione dissociata normocalorica e la nuova electroscruttura. La cronoalimentazione dissociata normocalorica consente una perdita di peso graduale e costante, senza fame, senza fatica, senza farmaci e senza stress. Quando trovi qualche amica, qualche amico, ti dicono che hai fatto, come ti è successo, tutte cose in questa maniera, e allora ti viene ancora quella voglia di continuare, di... una forza enorme, insomma, ad andare avanti, di perdergli questi chili. Negli studi DCD sono stati eseguiti più di due milioni e mezzo di trattamenti di electroscuptor. E sicuramente conosciamo meglio di chiunque altro questa metodologia insostituibile per il trattamento della cellulite e per il dimagrimento. Quando ero ragazza pesavo 55 chili. E... cioè, non... non pretendo di arrivare a questi 55 chili, però... non lontano, via. Prenota subito una visita alla DCD. Perdere 10-15 chili in 20 sedute non è un miraggio. Noi lo facciamo dal 1980. Ti aspettiamo alla DCD Studi Estetici di Perugia, in via Dottori 93, centro commerciale Selenia. Ti senti benissimo, perché ti senti come se fossi a casa tua. Praticamente non senti la differenza, non c'è. Sei come famiglia. Mi ha fatto una notizia. Mi ha fatto una notizia. Mi ha fatto una notizia. Mi ha fatto una notizia.